Buonasera, benvenuto. Ha per caso un appuntamento? Adesso lo controllo. Ok? Ha detto che è di coppia o singola? Ok? Abbiamo un posto libero tra pochissimo, quindi non c'è nessun problema. Con questo si risulta la prenotazione, ma se voglio iniziare prima non c'è nessun problema. Vi faccio solo attendere un attimo perché ho fatto vedere se io sono libero. Spero che questa mia spa le possa piacere. Questa spa è molto particolare perché l'abbiamo aperta da poco. Infatti incendiamo i nostri clienti a portare anche degli amici, dei fidanzati, dei fidanzate. Allora adesso andremo a fare i vari trattamenti per cercare di rilassare la persona, cercare di tranquillizzarvi, per cercare di essere meglio con voi stessi. Abbiamo fatto tutto. Noi usiamo molto questi diffusori ambienti che contengono degli oli dentro, molto profumati. e ci possono avere con la luce che spiega il loro essenza profumata oppure anche con la luce che fa anche da coronoterapia. Questa luce varia dal verde fino all'assurro chiaro e la lasciamo in ogni angolo della nostra spa per dare un tocco un po' più delicato e un buon profumo all'ambiente. Dicono anche che i colori tranquillizzano moltissimo perché sono comunque molto chiari e molto rilassanti. Io adesso l'attaccerò qua vicino così, se le piace li farò scegliere anche poi. La fragranza. In questo caso io dentro ho usato l'Oil Detery che è quello che vogliamo aiutare di più sia a livello ispiratorio sia a livello comunque per calmare. Però se preferisce poi lo cambierò. Le piace? Ok, va bene. Ora, io se appoggerò qua. Spero che non le fia fastidio. Ora, inizieremo prima di tutto usando quella salvia di pina sulle mani e sul viso. è sempre più pesa di rilassare. È un buonissimo profumo. È un buon rilassante e rinfrescante per comunque aprire i pori del viso e per comunque anche risentare le mani. noi lo usiamo come, diciamo, test di benvenuto per chi entrava e poi passare ai trattamenti successivi. con questa salvietta ne diamo anche l'omaggio con il kit per chi viene per la prima volta nella nostra spa. Ora, ci sonoomi per chi viene per il kit per chi viene per il kit per chi va bene. È un buon rilassante e questo inserimento è proprio il kit per il kit per i pezzi. La scatazione è molto più cattiva, l'opera fai così, la scatazione è molto più… di limone e menta, come ne diceva, molto molto rinfrescante, è piccolina, non è grandissima, però noi la facciamo così, la usiamo un po' sul viso, così. Adesso l'ultima passata, lì in fronte, chiude gli occhi. Ecco, ora io le prenderò un'altra, me la passerò sulle mani, così che possa poi andare a fare altri tipi di trattamenti su di lei. Si sente già meglio, vero? È molto molto rinfrescante, ha un ottimo profumo. Seve proprio per le mani, per il viso, si rinfresca, è molto 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 rosa. Io lo uso, io lo uso tantissimo, per i nostri clienti ne manchiamo sempre alcuni nel quinto. Ok, andremo ad accendere delle candele, spero che le piacciono. non hanno un odore molto forte, sono molto lievi queste candele. Spero che le possano piacere, mentre sono più profumate, però noi andiamo a mettere quelle più leggere, perché abbiamo già il diffusore di ambienti. ti vado ad accendere con questo mio caramellizzatore, che fa un bellissimo suono. facendo la prima candela. Poi metterò il tetto piccolo e candelina. per ultimo, se ne può piacere, ho questa qua, ok? Anche questa non ha un odore, però è molto molto bella perché è bianca. Chi l'accetto? Va bene? Questa è molto bianca, è bellissima. Le lascio qua. Adesso abbiamo tutte queste candele, quelle piccoline, che le metto su da avanzare. Ok. Ok. Ora si, le lascio. Metterò le candele accanto a lei. Insieme al diffusore. Siamo calmi da casa, ci sono le minutiche pure. Quando vuole. Ok. Ora iniziamo. Preferisce che iniziamo dallo scrub. O dal massaggio con le pietre. Dallo scrub? Vabbè. Questo scrub è a base di paciuli, lavanda, e la vaniglia. Io consiglio perché la vaniglia è lavanda, sono molto rilassante. I paciuli dà una nota molto piacevole, senza comunque dar fastidio. Ora io me lo sferisco sulle mani e poi andrò a fargli un massaggio sulla schiena. E' un buonissimo odore. E' molto molto... Ha una base oleosa. E' una parte oleosa. E' una parte così in polvere. Se io andrò a prendere una piccola dose. Che andrò a mischiarla. Ok. Ok. Ho prenduto una piccola quantità. La metterò sulle mani. Ok. Ok. con un potere molto oleoso e ho questi granelli di alzucro e sale su io andavo a prezionare così sulla sua schiena un po' così 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 ok ok un po' così un po' così abbassare 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 le porte del corpo dove lei ancora lo scrappa così てso rimuoverlo Sì, so bene perché se no il mare è troppo acqua. Intanto si rilassi, guardi che poi avrà la pelle molto 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 liscia, guarda rimuoverlo completamente. Ok, l'ultima passata e abbiamo finito. Perfetto. Senti come la pelle è molto molto bellissima ora, si è desatto anche un pelo per asciugarsi. Adesso lo pongo. Lo posso? Tengo. Prego. Senti come la pelle è molto bellissima, ha un ottimo ottimo odore. Ora, su quei paciulli lavato ci sono anche moltissime fragranze, ma questa è quella che adoro di più usare. O anche altri delfili possono servire. Allora, adesso invece andremo a fare dei massaggi con queste pietre. Le pietre. Oppure vedere, so che tutto questo sacchettino verranno scaldate e poi le potremo usare come pietre per i massaggi. sono delle pietre colorate con delle proprietà. e poi, andremo a scaldare, così che le farò un massaggio con queste. E anche nei tassi. E anche degli occhi. delle piccole sono belle di truppose. che non succesi sono realizzate come… circolo in catt permitir un vaso di sales per il ottimo Hammuris. Grazie a tutti. E' un po' calde sulle schiena e la lascerò rilassare per un po' mentre avrò sentire dei suoni dei nostri campanelli che utilizziamo nella nostra spa. Mi piacciono? Sono davvero molto belli, delicati. Grazie a tutti. E' un po' calda, rilassi, non pensi niente. E' un po' calda. 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 calda. E' un po' calda. calda. E' un po' calda. 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 cal OK. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vado a bagnare le mani per rimanere più in contatto. Ora, mi piace stare in assoluto al contatto. Vado a bagnare le mani per il freddo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.